Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo la rubrica in cui analizzo le migliori partite di Gotham Chess, fantastico maestro internazionale e youtuber. Oggi è una partita molto bella che ha giocato contro Balarishknan, non so se la pronuncia sia corretta, un fortissimo giocatore 2004-2005, in cui con un sacrificio di qualità ha creato un ottimo attacco, ma ora lo vediamo subito. Prima di iniziare ti chiedo due cose, innanzitutto di iscrivervi al canale YouTube, così da supportare il progetto che sa chi sta matto e non perdere i posti in video, e poi di farmi sapere nei commenti le aperture che giochi da bianco e da nero, cosicché posso anche capire nei posti in video su quale aperture concentrarmi di più, e quindi vedere quali sono le aperture più giocate, per esempio spagnola, siciliana, francese, caro, canale, non so, quindi ditemi nei commenti. Cominciamo subito. Allora, Levi Rosman, Gotham Chess ha il bianco e gioca D4, è l'apertura più utilizzata da Levi Rosman, quasi sempre gioca a gambetto di donna, o comunque partita di donna. Difesa indiana, cavallo F6, alfile F4, dice di non optare per C4 e quindi rientrare in una est indiana, ma gioca in maniera più posizionale. È quasi una specie di London o sistema colle, però vedremo che il neo non ha mai gioco D5, quindi non è mai voluto rientrare in quei sistemi molto posizionali e molto solidi che può costruire il bianco. G6, E3, alfile G7, quindi sviluppo abbastanza classico, call F3, arrocorto, alfile N2, D6, vado abbastanza rapido perché non ci sono grandi differenze sulla schiacchiera, insomma è uno sviluppo molto classico. H3, B6, arrocorto. Qui il nero decide di fianchettare entrambi gli alfieri, questo è già comunque molto interessante perché rinunciando ad occupare il centro, quindi le case di 5 e D5, gli alfieri hanno ampio spazio per manovrare, per giocare, per quindi controllare le case. Quindi può essere utile, in questo caso, fianchettare. Ovviamente se il nero avesse giocato D5, alfile in B7 sarebbe stato un po' più debole, anche se esistono comunque aperture in cui si gioca D5, E6 e poi C5, quindi si cerca di aprire la diagonale A8, H1 con la spinta in C5. A4, il bianco cerca di creare un attacco nato di donna e il nero risponde con A6, in questo modo su A5 si può rispondere con B5, bloccando tutto e anzi creando una specie di vanposto, comunque una casa controllata in C4. Non è la vanposto perché non vi è la colonna aperta, però se in futuro si apre la colonna C diventerebbe un'ottima casa. E infatti A5 non viene giocata da Levi Rothman, da Gotham Cess. Cavolo BD2, C5. Qui la spinta che vuole creare un controgioco, che vuole un po' rompere il centro, quindi creare un'apertura nelle linee, è C5. Ed è assolutamente corretta perché avendo messo l'alfile in G7, ovviamente l'obiettivo del nero deve essere quello di aprire la diagonale A1, H8. Quindi C5 è la migliore mossa in questo caso. Non conviene catturare da parte del bianco, questo è logico perché appunto se il vostro avversario vuole aprire le linee, voi da bianco non dovete permetterlo. Quindi se cambiare i pedoni non è una mossa corretta, allora l'alternativa è quella di difendere questo pedone. È vero che è già difeso, però C3 è sicuramente una mossa assolutamente solida. In questo modo su perone per si può catturare col perone C e quindi aprire la colonna C. Sarebbe un po' meno forte, quindi un po' impreciso catturare col perone E perché si creerebbero comunque delle case debole. Quella colonna C sarebbe aperta solamente dalla parte del nero, insomma non è il massimo. Non è un errore gravissimo, però sarebbe corretto catturare col perone C. Cavallo Bd7, donna B3, si attacca il perone B6, si mettono in comunicazione le torri, comunque non è una mossa aggressiva, è più una mossa posizionale per migliorare la posizione della regina. Cavallo E4, si possono cambiare i cavalli, non vi è alcun problema. Cavallo in G5, in modo tale da attaccare l'alfiere in E4, l'alfiere C6, D5. Interessante questa spinta perché il bianco ottiene un buon vantaggio di spazio, quindi inizia a espandere i pezzi, a ottenere maggiore manovra dei pezzi. Infatti in questo caso, in questa posizione, la casa E4 è controllata dall'alfiere, quindi questo cavallo non può saltare nella casa E4. Dopo D5 invece vedete come il cavallo può andare in E4, l'alfiere può andare in F3, insomma vi è un vantaggio di spazio. Vantaggio di spazio significa che vi è una maggiore manovra dei pezzi, che può essere anche un vantaggio. Ovviamente dipende come sfruttarlo, però per esempio a me piace molto giocare in posizioni in cui ho vantaggio di spazio, perché poi lo trasformo in iniziativa e quindi un attacco futuro. D5 alfiere B7, C4, si sostiene il pelone D5 e qui vi è la prima vera imprecisione da parte del nero, che gioca A5. Probabilmente l'idea è quella di fissare la casa B4, però in questo modo il pelone B6 diventa veramente debole e anche la casa B5 è molto debole, quindi forse A5 non è proprio la migliore. Di cosa si è preoccupato il nero? Secondo me, della spinta A5 del bianco. Infatti, dopo C4, su A5 non si può più rispondere con B5, ma probabilmente il nero può anche fregarsene in un certo qual modo, perché dopo A5 il pelone per, donna per, non vedo una grande minaccia. È vero che la colonna sarà aperta e quindi il pelone A6 sarà debole, ma allo stesso tempo anche la colonna B è aperta e quindi dopo il nero potrà giocare torre B8 e attaccare il pelone B2. Quindi probabilmente A5 non era una vera minaccia. Anche se è una cosa comunque da tenere in considerazione, ovviamente con livelli più alti, però possiamo anche noi cercare di sfruttare queste tecniche. che a volte una finta minaccia può portare in errore l'avversario. Quindi il bianco gioca a C4 in realtà per difendere D5, vi è questa finta minaccia di A5 e il nero fa un'imprecisione. Non è un errore grave, però è un trucco psicologico che si può anche sfruttare nelle nostre partite. Quindi pensare a creare finte minacce in modo tale da far sbagliare l'avversario. H4, il bianco vuole passare, vuole spostare l'attacco nel lato di re. Mi sembra sia corretto perché il centro è bloccato, quindi non ci sono minacce da parte del nero di controgioco e quindi si può anche attaccare nel lato di re. Cavallo F6, torre in D1, si migliora la posizione della torre. In futuro potrebbe essere utile perché se il nero vuole, non è ovviamente consigliato, ma se il nero in futuro vorrà aprire le linee, ovviamente avere già la torre nella colonna D è un elemento a favore del bianco. Alfiere in C8, questo alfiere è il pezzo secondo me più debole del nero e quindi è giusto riciclare una posizione migliore. Donna D3, alfiere D7, B3, H6, cavallo E4. E qui è il momento clou della partita in cui cambia tutto. Infatti, Levi Rosman analizza già da questo momento un eventuale sacrificio di qualità che porta a una posizione molto interessante. E allora vediamo come si conclude questo sacrificio. Dopo con L4, infatti, vi è la combinazione cavallo pre-4, donna pre-4, alfiere F5, con minaccia di regina, ma soprattutto minaccia di alfiere C2. e dopo donna F3, alfiere C2, il bianco decide di lasciare la torre in presa, quindi sacrificarla, giocando alfiere D3. Allora, in realtà, qui vi è un errore di C2, perché il nero non è costretto a catturare la torre, può catturare anche il primo B3. E su alfiere B3, qui la posizione è assolutamente avanzosa per il nero. Non vi è un grande controgioco. Il nero minaccia anche il piano A4, quindi probabilmente il bianco ha anche difficoltà qui a difendersi. Se gioca torre A1, dovrà sacrificare nuovamente la qualità, però stavolta con l'alfiere di campo scuro. Se non lo difende, forse torre B1, alfiere P4, sono due peoni in meno. È vero che vi è un attacco nel lato di Rai, probabilmente H5, però secondo me qui il nero ha un buon vantaggio. È anche vero che se il nero cattura la torre, ed è come è andata, Rosman in effetti ha ragione. Perché ora vedremo come questo attacco è diventato un buon attacco, e il nero ha rischiato. Però ora lo vediamo. Ma prima di andare avanti, vorrei un suggerimento anche per il futuro. In linea generale, capisco che è succulento catturare una torre, ma in linea generale vi consiglio sempre di andare in vantaggio di un pedone secco, se non c'è controgioco ovviamente, se l'avversario non vi può attaccare, non può mettermi in difficoltà. È meglio un pedone in più senza controgioco che qualità in più con controgioco dell'avversario. Quindi questo, tenetelo bene a mente, è sempre meglio avere un pedone in più senza controgioco. In modo tale poi da poter cambiare i pezzi e andare in finale, con un pedone in più vince tranquillamente. Dopo alfiere per D1, torre per D1, qui c'è controgioco. C'è controgioco perché il nero non ha più l'alfiere campo chiaro, e questo alfiere diventa fortissimo. Voglio ricordare che quando non avete la coppia di alfieri, il vostro problema è l'alfiere che non avete. Quindi in questo momento il nero ha l'alfiere campo scuro, il bianco ha la coppia di alfieri, il problema del nero è l'alfiere campo chiaro. L'alfiere campo chiaro che dopo H5 diventa una risorsa veramente minacciosa. Vediamo come. Donne 8, donna G3, F5, e qui il nero cerca di difendersi, ha difeso con la regina del pedone G6 e vuole limitare il movimento dell'alfiere. E4, il bianco vuole aprire le linee. Assolutamente corretto, per attaccare bisogna aprire il gioco. E5, D per E6, presa in passante, e ora viene anche attaccato il pionale D6. Come vedete l'attacco c'è, quindi Gotancessa ha votato bene la posizione. Donna per E6, alfiere per D6. Forse non è la migliore, si poteva anche giocare per F5 in modo tale da aprire anche la colonna G, in quanto il nero è costretto a catturare di pedone. Ma non è un problema. Vediamo alfiere per D6. Torre Fd8, E5. Sì, qui sono sicuro che Levi-Rosman avrà analizzato in entrambe le varianti. Da un lato vi è l'apertura della colonna G con quella linea che abbiamo visto con E per F5, dall'altro vi è il primo passato. E ha deciso di giocare con il primo passato. Si può assolutamente giocare. Il motore consiglia invece la linea con l'apertura della colonna G, ma concettualmente avere un primo passato e un alfiere in D6 difeso non può essere affatto sbagliato. Quindi sono proprio piccolezze. Va benissimo E5, alfiere F8, alfiere C2, alfiere per D6, E per D6, il primo passato va in D6, anche se il nero comunque è riuscito in un certo qual modo a limitare l'attacco del bianco. Qui, cambiando l'alfiere campo scuro, l'attacco del bianco viene un po' meno. Torre A7, H5, torre in D7, torre in D5, avanzata limitata di torre, che minaccia anche poi F5, quindi attenzione. Torre per D6, alfiere per F5, arriva, sono due pezzi che attacchano il primo F5, solamente la regina che difende, perché il primo G6 è inchiodato. Donna F6, alfiere per G6, Re H8. Come vedete, la posizione del nero è veramente complicata da giocare, perché vi sono tutti i pezzi del bianco che attaccano, il Re è completamente scoperto, quindi qui inoltre deve stare molto molto attento, perché rischia di perdere. Il bianco però qui fa un'imprecisione, Go Town Cess, gioca alfiere in E4, forse torre in F5 era migliore. Con l'idea di continuare l'attacco, minacciare la regina, e qua non è facile trovare difese per il nero. Per esempio, su Donna E7, la partita potrebbe continuare con Donna F4, con minaccia sia di H6, sia di torre F7. Qua, molto molto difficile giocare la partita del nero. Invece dopo il fiere in E4, torre per D5, alfiere per D5, si entra in un finale. Praticamente è finito l'attacco, senza la torre, attacco da matto, non ce n'è, e si entra in questo finale. Il finale comunque è pari. Il finale è pari perché alfiere, due pedoni contro torre, quindi anche come valore relativo dei pezzi, 3 vale alfiere, più 2 è 5, e la torre vale 5. Quindi il finale è tutto da giocare. Vediamo con che tecnica il nero riesce, cioè il bianco, quindi Go Town Cess, riesce ad avere la meglio. Però prima di andare avanti, vorrei vedere che forse pedone per D5 concettualmente era una mossa migliore, perché in questo modo si aveva un primo passato e il primo passato è sempre un elemento di vantaggio in un finale. Comunque va bene alfiere D5, probabilmente Go Town Cess avrà analizzato e ci sarà stata qualche linea che non gli piaceva dopo il peone per. Fiere per, torre in D1, Re H2 per evitare gli scacchi nella prima traversa, donna E5 si propone nel cambio di regina e qui voglio andare un po' rapido fino alla posizione del clou del finale in cui il bianco è riuscito a trovare un'ottima combinazione. Re F3 qui l'idea qual è, quali sono i piedi nel finale? Portare il re verso il centro, in particolare il pedone del bianco sta cercare di catturare il pedone del nero con il re. Infatti il nero in maniera veramente ottima e super precisa ha già posizionato tutti i pedoni in casa scura questo è un concetto generale che vale sempre quando giocate contro un alfiere dovete mettere i pedoni nella posizione nel colore contrario dell'alfiere quindi solamente il re può andare a catturare i pedoni. Torre in C1 alfiere in C6 scacco e il re che si posiziona verso il centro cade il pedone in B3 il bianco nel frattempo minaccia la creazione di un pedone passato torre in C3 alfiere in D7 torre in C3 il re arriva in D5 e quindi ora è veramente minaccioso torre F3 e re in E4 qui ovviamente il bianco deve sempre analizzare bene la posizione perché è vero che può andare a catturare i pedoni ma anche il nero può minacciare i pedoni quindi qui vi è serve una capacità di calcolo in profondità per capire come va a fine la posizione dopo torre per F4 re G5 sacrificio di torre e poi cercare di promuovere il pedone allo stesso modo il bianco può andare a catturare tutti questi pedoni e minacciare la promuovere il pedone probabilmente vota non c'è essere analizzato e non era vantaggioso per il bianco quindi il re in E4 propone patta viene rifiutata dal nero G5 scacco penone per penone per sacrificio di pedone e qui il nero va in qualità di vantaggio non vi sono più i due pedoni in più il nero ha riguato tutti i due pedoni ma la posizione è assolutamente pari assolutamente pari ma ci vuole veramente tanta tecnica e precisione questa nei finali è fondamentale probabilmente qua i giocatori sono anche a corto di tempo e quindi la precisione viene meno la parte del nero e l'errore clamoroso o comunque l'errore decisivo direi è in questa posizione qui il nero ha una mossa in cui pareggio la partita e non viene vista da Balakrishnan questo fortissimo messo internazionale che a corto di tempo probabilmente dopo una partita estenuante siamo alla 60esima mossa non ha visto qui la mossa vincente se vi va come allenamento provate a vedere voi stessi quale mossa è vincente per il nero qui la mossa che ha giocato il nero è re in 6 ed è sbagliata l'idea è che il nero vince cioè pareggia giocando re in 5 re in d4 perché in questo modo difende il pedone c5 e allo stesso tempo attacca il pedone c4 e quindi quando in futuro dovrà sacrificare la torre per il pedone che promuoverà per esempio in a8 se l'alfieri prende la torre il nero può catturare il pedone e quindi sarà la partita patta vi faccio vedere la linea corretta e poi vediamo come è data la partita re in e5 re in b6 re in d4 il pedone avanza si porta l'alfiere lontano dal pnc4 dando questo scacco torre g1 a7 torre qui e poi sacrificando il pedone si può catturare il pnc4 e quindi la partita è assolutamente patta invece la linea che ha giocato il nero qui con re e6 porta alla sconfitta e infatti il bianco può giocare in maniera uguale ma la differenza è che il nero non potrà catturare il pnc4 ta 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 come vedete il pedone viene ovviamente preso dalla torre ma non potendo il nero catturare il pnc4 la partita sarà vinta per il bianco e infatti dopo l'alfiere c6 qui il nero abbandona ovviamente perché la promozione è inevitabile ci vuole tantissima tecnica e precisione in questi finali ecco perché io vi consiglio sempre di studiare tattiche finali come proprio le cose principali le cose più importanti da studiare all'inizio e poi ovviamente migliorare anche nella strategia perché basta un piccolissimo errore in finale e vi è riuscita a vincere tantissime partite che magari sarebbero finite in pareggio allora fate sapere che ne pensate nei commenti del video lasciate un like se vi è piaciuto il video e fate sapere comunque varianti che avete visto o qualche non lo so linea tatticismo o anche rispondete alla domanda che vi ho fatto all'inizio sull'apertura che giocate così ne parliamo insieme vi faccio qui di vincere in pressione ci vediamo alla prossima ciao